Buongiorno a FTI Online, avvio poco mosso questa mattina per la borsa, il Futsimib è sostanzialmente sulla parità, vediamo che i prezzi hanno cercato di superare i massimi di ieri, questo è un grafico ad elementi giornalieri, ma si sono poi fermati contro la media mobile esponenziale a 50 giorni che passa poco al di sopra dei 26.600 punti, fino a che saremo al di sotto di quei livelli, il rischio di un'evoluzione negativa rimarrà elevato se dovessimo salire sopra 26.600 e poi sopra 27.000 dove abbiamo il 68% di retracement del ribasso dal massimo di novembre, in quel caso ci sarebbe invece la possibilità di un'estensione del rialzo verso i 28.000 punti, la situazione è abbastanza simile anche per quello che riguarda l'Eurostox, siamo con i prezzi che dopo essere rimbalzati ad inizio di settimana dalla media mobile esponenziale a 200 giorni che adesso passa intorno a 4.065, hanno avvicinato la base del canale rialzista che parte dai minimi di ottobre 2020, resistenza che praticamente coincide con la media mobile esponenziale a 20 giorni, sopra 4.180, 4.190 avremo un segnale di forza almeno per quello che riguarda il breve termine, fino a che rimaniamo di sotto di quei livelli c'è il rischio invece di un nuovo test della media a 200 giorni. Questo è il grafico del S&P 500, resta evidente il rischio che quello in corso di preparazione dal massimo di novembre sia una figura a doppio massimo, quindi potenzialmente ribassista, conferma in questo senso sotto i 4.500 punti, invece sopra 4.700, sopra la 4.700 con la chiusura di seduta oltre quei livelli, diverebbe probabile il raggiungimento del lato alto del canale che i prezzi stanno disegnando dai minimi di ottobre, quindi ovviamente anche il raggiungimento di nuovi massimi storici. Infine diamo un'occhiata al Dow Jones Industrial, in questa fase forse i titoli più legati all'economia reale, diciamo all'economia tradizionale, sono quelli che hanno sofferto meno dopo il ritorno dei contagi di Covid-19 e siamo infatti tornati in questo caso al di sopra della linea di tendenza che parte dai minimi dello scorso anno, siamo anche in questo caso ben al di sopra della media mobile esponenziale di 200 giorni che passa a 34.300, direi che fino a che la media difende l'up trend e si può sperare in un'evoluzione positiva, se dovessimo scendere sotto la media l'oscillazione vista dal massimo di agosto sembrerebbero in quel caso un testa a spalle ribassista, quindi anche qui abbiamo una figura in preparazione che è potenzialmente di inversione rispetto alla tendenza rialzista precedente, così come abbiamo il doppio massimo sul S&P 500. Se andiamo a guardare alcuni grafici della borsa americana però ci accorgiamo che tutto sommato la situazione non è così negativa come il news flow farebbe pensare, abbiamo sempre i soliti temi che pesano sui mercati dall'inflazione molto elevata al ritorno del Covid che rischia con nuove chiusure di rallentare la ripresa dell'economia, poi sullo sfondo resta il problema ovviamente del comparto immobiliare in Cina, diciamo che i temi potenzialmente negativi per il mercato ce ne sono tanti, però per adesso le borse hanno deciso di metabolizzarli tutte abbastanza velocemente e questo è il grafico del Russell 2000 che sappiamo essere l'indice che meglio rappresenta la situazione per quello che riguarda l'economia interna degli Stati Uniti, vedete ha messo a segno un bel rimbalzo da un forte supporto che erano i minimi di marzo di quest'anno poi toccati anche a luglio, quindi siamo scesi con i prezzi su un'area di supporto importante e c'è stata una bella reazione, quindi questo già di per sé è un segnale potenzialmente positivo, è ovvio che poi servirà la rottura del lato alto di questa fascia per segnalare la ripresa dell'up trend, ma soprattutto se dovessimo scendere invece sotto la base di questo trading range che dura ormai da molti mesi ci sarebbe il rischio di una forte accelerazione ribassista, perché sappiamo che questa fase laterale può essere vista come una molla che si sta caricando e nel momento in cui uno dei due estremi viene superato, o quello superiore o quello inferiore, la molla libera la sua energia e c'è il rischio di assistere a movimenti di portata significativa, sia come ampiezza temporale e anche come estensione. però primamente l'eventualità di una violazione della linea rossa sembrerebbe stata scongiurata. Questo è il grafico invece del NICE Compositor, quindi tutta la borsa americana, su time frame settimanale, in alto abbiamo l'indicatore advanced decline, quindi titoli a rialzo e meno titoli a ribasso, anzi in questo caso è una frazione, fratto titoli a ribasso e la curva più spessa è la media mobile a 10 giorni di questa advanced decline. Vedete che dopo una fase in cui l'advanced decline era in discesa in corrispondenza di questa zona laterale, di questa fase laterale, quindi sembrava di essere in presenza di una fase di distribuzione, ovvero sia preparatoria ad un ribasso, invece nelle ultime settimane l'advanced decline, la sua media, hanno ripreso a salire con una certa decisione, quindi potrebbe essere anche, il mercato avrebbe già deciso di mettere fine a questa fase laterale per riprendere la sua fase di crescita, quindi staremo a vedere anche qui ovviamente fino a che siamo a di sotto della parte alta della fascia, quindi a di sotto i 17.000, 17.500, il rischio di un'evoluzione negativa non si può escludere, però guardando l'andamento dell'advanced decline verrebbe quasi da pensare che appunto il peggio sia ormai alle spalle. Oggi andiamo a guardare alcuni titoli del mercato italiano che si stanno muovendo in modo interessante, ne guarderemo un paio insieme, poi per quello che riguarda invece gli altri 4 sono riservati agli utenti che ci seguono su Patreon, sicuramente è interessante il reply, ieri i prezzi hanno terminato sostanzialmente sulla parità, oggi invece salgono con decisione, ieri il massimo è stato a 167.80, questa mattina siamo a 172, si sta disegnando una figura di forma triangolare che più probabilmente è un pennant, non un triangolo, la differenza tra i due è che il triangolo è composto da più segmenti, quindi una figura più complessa che ci mette più tempo, ci mette di più a completarsi sia in termini di tempo che in termini di spazio se dovessimo assistere al superamento del lato alto di area 181 il pennant verrebbe completato e ci sarebbe a quel punto la possibilità di andare ad intercettare un target che è dato la proiezione dell'ampiezza del movimento precedente al pennant dal minimo della figura stessa, quindi con un obiettivo intorno ai 203-205 Euro, questo ovviamente come abbiamo detto è condizionale alla rottura di area 181, se invece dovesse venire violata la base di questa figura triangolare, quindi sotto area 162-163, quello che abbiamo visto disegnarsi nelle ultime settimane verrebbe considerata una zona di distribuzione, ci sarebbe il rischio di una fase di discesa anche abbastanza consistente, andremo a correggere infatti tutto il rialzo che c'è stato dai minimi di marzo dello scorso anno. Situazione positiva anche per Amplifon che questa mattina è in forte rialzo, se andiamo a guardare l'andamento delle ultime settimane vediamo che i prezzi si sono fermati nelle ultime sedute a ritracciare il 68% del ribasso dal massimo del 9 di novembre, la resistenza per la precisione è a 44,60, questa mattina siamo a 44,90, se dovesse venire confermata anche in chiusura di seduta la rottura di 44,60 avremo un segnale di forza importante che potrebbe introdurre al ritorno in area 46,80, attenzione se i prezzi invece dovessero tornare in chiusura di seduta di sotto di 44,60 il segnale di forza avrebbe negato, ci sarebbe in quel caso il rischio di un ritorno almeno sui minimi di dicembre a 40,95. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani con il nostro consueto commento giornaliero.